Però devo dirti che i tagli degli anni 70 che nostra madre ci faceva quando erano piccolini sono improponibili. Ciao da Cosmopolitan, sono Rachele Decata e questo è Diluvi Universali, il nostro podcast sugli acquazioni della vita. Oggi graditissime ospiti del nostro appuntamento, Paola e Chiara, siamo qui a Sanremo, quindi in pieno clima festivaliero, perché insomma ci siamo, stasera si comincia e voi quest'anno insomma siete alla conduzione. Insomma questa conduzione versus gara, come la vediamo? Ciao Rachele, intanto un saluto a tutti gli amici di Cosmopolitan. Come la vediamo? La vediamo bene, siamo molto rilassate, il mood è completamente diverso dall'essere tra i 30 in gara, tra i cantanti in gara, quindi ci stiamo vivendo tutta l'atmosfera festivaliera che è veramente frizzante, quest'anno è veramente entusiasmante e contagiosa, senza avere quell'ansia posso dire del dover cantare poi la sera. Eh sì, poi quest'anno voi avete questa visione dall'esterno dell'Ariston, no? Sì, sì. È divertente in generale tutto, mi sarei aspettata che fossimo più agitate prima della diretta, invece in realtà ci siamo, cioè siamo entrate nel mood subito e ci stiamo divertendo, lo stiamo facendo ovviamente nel nostro stile, noi non siamo presentatrici, ma comunque ci siamo buttate in questa avventura, ci piacciono le sfide, insomma ci piace metterci in gioco soprattutto, quindi l'abbiamo sempre fatto, quindi anche in questo caso ci stiamo godendo l'esperienza. Sì, poi è come se si fosse creato un po' un flusso dall'anno scorso a quest'anno, senza fine, Amadeus ha voluto in modo molto carino dare una continuità, e quindi insomma abbiamo accolto questa proposta con grande entusiasmo. C'è un ricordo dell'anno scorso quando siete arrivate a Sanremo, la prima cosa, il primo ricordo dell'anno scorso e il primo di quest'anno? Beh c'è stata un'ondata di ricordi perché non mancavamo dal festival da tantissimi anni, e poi da diversi anni non salivamo su un palco così importante insieme, quindi è stato veramente un mix di emozioni indescrivibili, è stato molto forte. Sì, la cosa forse che mi ricordo di più è stata la prima prova sul palco con l'orchestra, che era entusiasta del pezzo e mi ricordo... L'applauso ci fu! Sì, e mi ricordo che le violiniste, tutto diciamo la parte orchestrale, molte di loro erano delle fan accanite, quindi partecipavano molto al fatto che fossimo in gara e tifavano per noi, questa cosa mi ha fatto sentire... Perché sai, quando sei su quel palco, una parte importante è l'orchestra, l'orchestra ti fa sentire un po' protetta, no? E ci sentivamo un po' protette da loro. Sentite, invece entriamo un po' in questa cosa dell'essere sorelle. Quando eravate più piccole, più giovani, insomma anche bambine, come vi coprivate le marachelle l'una con l'altra, chi era più dispettosa? Oddio! Ma in realtà eravamo molto vicine, molto solidali e ci coprivamo abbastanza vicenda. Non è che fossimo due che combinavano guai, devo dire la verità, che io ricordi. Però se succedeva qualcosa, nessuno ha mai fatto la spia all'altra, è stata lei, è stata l'altra. No, però la mamma diciamo che poi per non fare le differenze sgridava tutti e due, no? No, indipendentemente da chi fosse stata la causa scatenante, diciamo. Sì, però non mi ricordo episodi in cui... Cioè, capitava che litigassimo tra di noi anche in modo... Ecco, per cosa? Sì, vabbè, come tutte le storie... Le ragioni, sai che non mi ricordo le ragioni, però mi ricordo le litigate, questo me lo ricordo. Mi ricordo che proprio ogni tanto partivano queste litigate fotoniche, non spessissime. Non mi ricordo le ragioni. Però poi quando facevamo dei danni o dei disastri, non dicevamo, non incolpavamo una all'altra, non facevamo una spia, eravamo un po' mertose. Mi comprivate la vicenda. Sì. Ebbè, insomma. La prima che ha fatto una stranezza in fatto di capelli, ad esempio, non so, colorarsi i capelli o qualche cosa... Forse è chiaro, no? Io? No? No. Ma più che altro era la mamma che ci faceva fare... A me... Mia mamma mi ha fatto schiarire i capelli fin da subito, perché diceva, il colore è un po' scuro, dovresti schiarirli, fai i colpi di sole, però no, io da sola, autonomamente, non ho mai fatto... È bella la mamma, però, eh? Che fa? Boh, così. Forse avevo fatto un caschetto intorno ai 13 anni, perché mi piaceva, avevo visto Pazzi Kenzi in tv, mi piacerebbe avere un caschetto così, una volta avevo fatto un taglio di quel genere, però li ho sempre tenuti lunghi perché mi piacciono così. Ecco, qualche disastro, appunto, in fatto di... Tu il caschetto, allora. Beh, a Sanremo 98 avevamo tagliato i capelli. Vabbè, ma eravamo già grandi. Ah, si parla giù, tu dici quando eravamo bambina, però no, però devo dirti che i tagli degli anni 70 che nostra madre ci faceva quando eravamo piccolini sono improponibili. E le foto ce le ha la mamma appese. Purtroppo ogni tanto saltano fuori, perché poi sai... Meno male che si sono perse quando... Perché erano bruttose, no, vabbè, sono sempre tenere da guardare, però in effetti se guardi il taglio diciamo, era così carina e la bambina è peccato il taglio. Ho quasi paura a chiedervi della moda, che voi adesso siete due icone di moda. Amatissime. Noi abbiamo sempre amato la moda, anche perché è un binomio inscindibile con la musica, il palcoscenico, quindi è sempre stata un po' a servizio del palco e dell'esibizione, insomma il look. Quella foto, quel look che non ripetereste mai? Forse Sanremo 98. No, io no, io non rinnego nessuna scelta di storia. Tu hai già due volte che ci ti Sanremo 98, però. Sì, è rimasto traumatizzata. No, io invece no, perché mi ricordo molto bene il contesto in cui era inserito quel look, andava proprio, era proprio di moda quel tipo di mood. È l'anno della vittoria, giusto? No, 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 è l'anno dopo. L'anno dopo. C'era questo mood un po' Natalie Imbruglia versus Frozen di Madonna, quindi tatuaggi sulle mani, un po' alternativo come mood. E noi avevamo tagliato i capelli, appunto perché era uscita Torna di Natalie Imbruglia, con questo taglio corto, quindi tutte le ragazze si stavano tagliando i capelli. E noi da capelli lunghi 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 avevamo dato un taglio. Lei l'ha vissuta malissimo. Mai più nella vita. Io avevo fatto un ciuffo blu, insomma eravamo un po' alternative. E invece vi leggo quello che scrivono oggi dei vostri look, perché io sono andata a pescare qualche commento sui social. Vabbè, regine, insomma l'appellativo più usato, abusato sui social, benissimo. Poi, mi sono commosso, appena è partita VAMOS e tutti cantavano, l'inno nazionale vi siete riprese tutto. Vabbè, sì però ci sta. È stato molto bello, devo dire, se parliamo del Sanremo dell'anno scorso, quando nella serata dei duetti abbiamo fatto tutte le nostre hit in fila, mixate. Ecco, noi l'anno scorso a Sanremo abbiamo vissuto un'esperienza quasi mistica, che non c'era mai successa. Cioè il fatto che eravamo meno prese dalla gara, anzi per niente, non abbiamo pensato alla posizione dove saremmo state. Eravamo felicissime di essere in particolare nel Sanremo di Amadeus. Ci tenevamo tantissimo, ci saremmo rimaste malissimo se non avessimo passato le selezioni. Fortunatamente Amadeus si è innamorata di furore e ci ha chiamato. Il fatto che abbiamo vissuto tutto con estrema entusiasmo e leggerezza ha aiutato molto la performance, ha aiutato anche molto il fatto che sentissimo questo amore da parte della gente, no? Molto. Infatti anche la prima sera che abbiamo fatto furore, la prima volta che abbiamo cantato, che forse eravamo ultime, la gente ci ha accolto proprio anche con l'applauso in sala, che non era successo altre volte. Questa cosa qui ci ha veramente caricato anche molto, perché insomma non ci esibivamo da un po', poi a Sanremo è tutto più amplificato in generale, quindi... L'anno prossimo ho quasi paura a chiedervi dove vi troviamo l'anno prossimo. A saperlo! A parte che io non credo che nessuno possa sapere cosa ne sarà di noi tra un anno, in generale, ma... Però vi piacerebbe una conduzione più istituzionale, cioè quella proprio sul palco. Ma se... Anche. Vediamo come va questo. Per adesso gli ascolti stanno andando bene. Siamo contenti se piace questo stile un po' che è il nostro. Ragazzi, vorrei dirvi che piace tutto, perché vi leggo l'ultimo commento. Io ormai aspetto solo i vostri outfit, mi inchino a così tanta bellezza, quindi direi che... Sono fan e sono troppo buoni, però li ringraziamo perché ci fanno sentire belle e ci fanno sentire amate. Perché un po' di sforzo c'è, abbiamo un team che ci aiuta, insomma, per i vestiti, per il make-up, tutto quanto, facciamo tanto lavoro, quindi un po' di soddisfazione sentirsi dire che le cose sono andate bene, siamo contenti, ovviamente. Esatto. Beccate ancora, insomma, un pochettino questa cosa. L'ultima, vogliamo sapere l'ultima. Siamo uguali a tutti i fratelli e le sorelle. Dobbiamo tranquillizzare tutti i fratelli e le sorelle. Non facciamo eccezioni e basta. L'ultima per cui avete discusso, dai, poi vi lascio andare. Oddio, oddio, oddio. Oddio, oddio, ma recentemente. Cosa che era? Forse per la scelta di una fotografia che dovevamo scegliere qua. Sì, i discriminanti sono sempre o la scelta di un look o la scelta di una foto. No, e poi mi sono venuta meglio io sempre. Cioè, casino, non è facile. Va bene, ringraziamo Paola e Chiara. Da Sanremo è tutto, di Lui Universali. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Ciao.